buongiorno stiamo andando al mare fra poco vi mostrerò tutta la bellissima litoranea che porta da Cagliari a Villa Simeus Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Mi ricordo che quando ero piccola visticiavo con i miei cugini per stare vicino al finestrino dal lato della litoranea perché volevo ammirare sempre questo bellissimo panorama Non mi sono mai stancata di guardarlo infatti tuttora rimango incantata è bellissimo amo questa parte della Sardegna è troppo bella Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Vi mostro il mio asciugamano che ho acquistato qualche giorno fa. Guardate che carino, 10.000 lire. Intanto le persone passano. Non mi guardano male, non mi guardano male che sto parlando da sola. Andiamo asciugamano. Io non capisco come faccio. e non mi guardano i bambini a tuffarsi. E' come se fossero delle poche. non temo, non temo, non temo, che bello. non è bellissimo, non è bellissimo. ecco la torre. Ecco la torre. Ecco la torre di porto. non mi guardano, non mi guardano. non mi guardano, non mi guardano, non mi guardano. non mi guardano, non mi guardano. non mi guardano, non mi guardano, non mi guardano, non mi guardano. non mi guardano, non mi guardano, non mi guardano. un pranzetto un'insalata di riso con pomodoro e un hamburger di pollo tagliato a pezzetti abbiamo appena comprato due dei pezzi di ananas fresco che buono buon appetito appena termino di mangiare il mio riso lo mangerò anch'io adesso mangerò due belle albicocche e berrò la spremuta da ananas fresco e dicomi finalmente a casa che stanchezza ragazzi ho guardato un po' la salsa di un raccoglio e mi ha funciato i capelli adesso mi faccio una doccia e spero che il video vi sia piaciuto il mio primo vlog interamente vlog veramente vi mando un grandissimo bacione e vi rimando al prossimo video ciao 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 ciao